No, no! Non sono la 23! La Colan sei tu! Mi insegnava perché già capiva l'Iroia potrebbe essere lo sfalto. Inoltre, lo faccio! La Colan sei tu! Non si sa capito come si sa capito! No, no! 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 Mi pensarebbe che si è assolutamente a passare. Non ci vedi ancora. Ecco, va bene. Ma c'è l'altro in voi. Prisamente che ho fatto un giro cattivo, tutto qua. Aspetta me! Ma no! Ma no! Ma che parte dai? Sì! Sì, sì! Deve tirare! Sì! St48, st40, st49! Ta cuore! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Il primo tempo è 16-21 Il primo tempo è 16-21 Il telefono è di 67€ Bravo Costa! 1... 2... 3... 2... 2... Grazie. 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 Adesso noi andiamo a finire. Ma la coppia è scudolata. È stato scudolato? Sì, abbastanza. È un dono, è che è stato scudolato. È un dono, è che è stato scudolato. Ah, ragazza, c'è l'ultimo. Oh, ma bel lavoro. Ora, sei. Guarda qui, è un dono! È un dono, è che siamo pazienti. Guarda qui, è un dono! Guarda qui, è stato scudolato. Guarda qui. Guarda qui! Guarda qui, è stato scudolato. Guarda qui! Guarda qui! Grazie a tutti. 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 Punto blu, è punto blu. Grazie a tutti. 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 Vai, ciao. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Secondo tempo. 40-29. per i peanuts. Yeah. la vinci. Yeah. 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 è un minchiuso iniziamo a partire dove andai? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.